Scandalo calcio scommesse, arrestato Signori e altri 15 giocatori. Un vero e proprio terremoto ha sconvolto il calcio italiano, quando questa mattina sono scattate le manette per 16 persone, tra le quali diversi ex giocatori di Serie A, con l'accusa di aver truccato alcune gare per il calcio scommesse. Tra gli arrestati c'è anche l'ex calciatore di Lazio e Bologna, Beppe Signori, anche lui implicato nell'attività di condizionare i risultati di Serie B e Lega Pro. In tutto la magistratura cremonese ha emesso 9 ordinanze di arresti domiciliari e 7 di custodia catolare in carcere. In tutto gli arrestati sarebbero una trentina, poiché nel giro ci sono anche i liberi professionisti e titolari delle agenzie di scommesse. Tra i calciatori coinvolti nella vicenda, oltre a Beppe Signori, ci sono anche Vittorio Micolucci, difensore dell'Ascoli, Vincenzo Sommese, compagno di squadra di Micolucci al momento domiciliari, Gianfranco Parlato, ex giocatore attualmente in carcere, Marco Paoloni, portiere del Benevento e anche lui in carcere al momento, Mauro Bressan, ex giocatore della Fiorentina, Antonio Bellavista, ex giocatore e capitano del Bari. Tra gli indagati inoltre spunta anche il nome di Stefano Bettarini. L'accusa è pesante, aver condizionato le gare per calcio scommesse. Le prove a detta degli investigatori sono inconfutabili. Emergono ora inquietanti i sospetti per una partita del 2010, in cui sei giocatori della Cremonese furono intossicati dopo aver assunto alcune bevande. Per gli investigatori tale metodo era atto a modificare il risultato finale della gara. Si attendono quindi nuovi sviluppi nelle prossime ore, mentre la società di Ascoli e Benevento attendono di sapere quale sia la reale posizione dei loro tesserati, soprattutto per il Benevento, che è implicato nelle semifinale dei play-off.